ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora ai navi reaccio ragazzi per questo video vi porto una delle canzoni più richieste una delle sfide più richieste tra noisy e stressi ok la sola canzone la prima canzone che ho scelto per voi e stressi bojo madame ok e poi faccio la canzone di noi si ragazzi non vedo l'ora perché veramente questa me l'avete chiesto in tantissimi quindi che dire ragazzi partiamo subito con stressi partiamo ragazzi già insulta già insulta io spero veramente già insulta in questa canzone mi devo abituare ragazzi agli insulti mi devo abituare perché ce ne saranno tantissimi ragazzi questi dissim qua sono appena uscito da casa tua se non mi credi vai a chiedere a tua mamma ok ragazzi questi dissim qua sono appena uscito da casa tua se non mi credi vai a chiedere a tua mamma ok ragazzi stressi quando si tratta di scrivere dissim è veramente molto molto cattivo vai a pagare tu i debiti i debiti di chi? va a pagare i debiti ma forse non ci s'avreremo qualche debiti di qualcuno o ragazzi non so Stai insultando tantissimo Non so, mi sento in imbarazzo perchè sta insultando tantissimo, proprio tanto tanto Andiamo avanti ragazzi Ok Vado in giro a tutti i OTR OTR è il gruppo di noi che dovrebbe essere Sì, è un top of the rest Quindi stai insultando tutti Ok 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 Oh mio Dio ragazzi mi sento in imbarazzo Mi sento in imbarazzo veramente Oh mio Dio E' un dising Cattivo Wow Non approfittarti dei altri Qua non ce l'ha con Noisy Qua ce l'ha con qualcuno del gruppo di Noisy E dice non approfittarti dei altri perchè da solo non vale nulla Non so con chi c'è da bian E' un appartamento E' un appartamento Forse ragazzi ogni tre parole è un insulto ok voglio sapere tutti che il maestro vi insegna a fare il rap ok se volete ok adesso ho capito perchè lui dice perchè lo insultavano nell'altra canzone dicevano a tirana a tirana perchè adesso lui sta dicendo che se avete coraggio venite tanto mi trovate a tirana perchè lui appunto come avete anche detto voi vive a tirana quindi sta dicendo se avete coraggio sono qua a tirana vi aspetto ok o 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 ascolterei perché è una canzone con tantissimi insulti eccetera però questo è tutto ragazzi io penso così lasciatemi voi cosa ne pensate di questa canzone cosa ne pensate di stressi oppure del gruppo otiar e noi ci vediamo la prossima ciao a tutti i ragazzi continuate a suggerirmi delle canzoni perché io li leggo tutti i vostri commenti su youtube ciao a tutti i ragazzi vi saluto dall'italia ciao